Buona ragazzi questo è il GKQ e oggi siamo tornati in un nuovo video Oggi siamo sul canale di CK perchè andiamo a fare qualcosa di particolare Che non vorrei mai fare sul mio perchè mi demonetizzerei il piede sinistro Ma io volevo claffare Non lo farai Oggi siamo su Google Feud Ma non siamo su Google Feud ancora Noi non siamo su Google Feud ancora Siamo su Discord Siamo su Discord e oggi siamo qui appunto per andare su Google Feud Ci stiamo accingendo ad andare Ora siamo su Google Feud Adesso siamo su Google Feud Ok Allora Google Feud l'avete visto almeno 445 volte da altri YouTuber Però non da noi quindi serve una spiegazione Dobbiamo una spiegazione Praticamente vi da una parola diciamo una frase più che altro E noi dovremmo indovinare quali sono i top completamente di YouTube Cioè se io vado su Google e cerco Di Google non di YouTube YouTube eh Non è Google Allora se io vado su Google e cerco Cerco Claudio C'è Claudio Baglioni Claudio Borghi Claudio Borghese Esatto Necessito un Photoshop dove tu hai il cappello da cuoco E stai con Alessandro Borghese che fatti Ciao sono Alessandro Borghese Scegliamo la categoria Io direi magari domande domande la più divertente sicuramente Why is my boyfriend soo Jalous penso sia d'obbligo Non si scrive così No con la G Non si scrive Jalous Non si scrive così Jalous Vedi che si scrive così Ah Jalous Ok addirittura Proviamo Boom Eh io sono forte Ma hai provato il suo Angry No No Il suo Annoying Ok Oh Angry Non c'è Ma addio santo Gay No Proviamoci con Oh ok Silly Ok silly ci può stare No Abbiamo Dai Mean è brutto però Cos'è mean Eh tipo cattivo No Sensitive Che vuol dire Che è gassi Vuol dire tipo che scorreggia un casino Credo What should I do if I If my boyfriend farsala Io ho sparato completamente a caso Digli di mostrare un po' di rispetto E lasciala stare Ma magari c'ha mal di stomaco Poveretto Is it cool to Die Buffa Is it cool to Be vegan Mo' così Vegas Vegas No Non è cool essere Vegas Mi spiace Is it cool to No Wear socks with sandals Ma dai Cos'è Jule Jule mi sa che era la sigaretta Esatto Ah ok Be a nerd Beh ovvio Be depressed No Is it cool to stay cool Vedi che l'avevo scritto io I risvoltini Perché dovrebbe essere figo Essere vergine Oh sono fighissima Is it a true travel Scusa aspetta un attimo Africa Africa No 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 forse non è Italia Italia Italy Come ma perché Perché abbiamo più gente Abbiamo più emigrati che vogliono tornare più che altro Ah It's safe to travel to Japan No USA Ci proviamo Vado che Mexico Italy right now Florida now Cancun Israele Israele Ma nonostante ci sia il corona La gente vuole scappare in Messico Cambiamo categoria Quale è la differenza tra people e names? Stavo per chiederti la stessa identica cosa Andiamo su cultura nel dubbio Island of Junara Qui si scrive Junara Ah ma è una custom map Ce l'ho sperato No dai Island of Maldive Maldive si scrive Maldive? No Poi chiamoci con Italy No The world South Africa Adventure The blue dolphins The dolls Per un attimo ho avuto paura che ci fosse veramente Junara Rap is Gay Ah effettivamente si Come no? No Prima era tutto che era gay Good Non è né bad né good Not Garbage Death Un'anima di un uomo Un'arte marziale E' bello Ah ti me la dà colpi di barre Tieni questo flow Bro Bro Io ti picchio Scusco Io non ti picchio però ti picchio bro Ok basta How to grow Anziare adesso Cosa? Manco hai visto tu Come farsi crescere la barba Cioè solo perché lo stai facendo tu tutti lo stanno cercando Esatto How to grow a child Ha senso No A plant E stavo pensando la stessa cosa No My hate Non penso si dica così Height così si scrive Ci provo? Air fast Potato Ah vabbè potremmo Toll Ah toller c'era People or name? People or name? Dai Boo Per quello che cambia People What is like to be famous? Toll? Toll Ok qua ti può stare sicuro E' bugato E' bugato Un pivistrello Schizofrenico Come non c'è a kid? Cosa crescete voi? Come alzare la mano su zoom? No no dai I failed at Job Job Ci provo? Uh Postnake Dicendo che stavo pensando la stessa cosa Ci provo? Prova prova No Be depressed Ti glielo metto No My marriage Everything Sneaking out potato Cos'è? Eh? Non sto capendo Non ho capendo Cos'è? Dove sono Soffito su me.me Cos'è sta roba? Perché c'è Barack Obama? Andiamo con names A sto punto A sto punto Brian Non ne conosco io a Tony Per il problema Brian A me viene Clirtwood Ma non so come è scritto No no Non può essere scritto così Cercalo Brian Clirt No Esatto perché se cerco Brian Brian è città Non vale Clintwood Mi esce Ma non è capitato Ma Clintwood E Clint Eastwood Diminuito Cos'è? A causa del coronavirus Le informazioni sull'evento Potrebbero essere ragionate Ma quell'evento Paul Paul No Brian Mi viene sto Brian Clirtwood Ma non so da dove Cerca Deveva fare Clirtwood No Brian Newman A sto punto Diciamo Diciamo a casa Scott Una tu Camp Wilson Cox Branks Williams No Brian Reagan Brian Reagan Aveva senso Brandon Lee Ok Cooper Come? Non c'è Cooper E c'è Brandon Lee E poi Basta Ok Name Non è una categoria Per noi Non che nelle altre Abbiamo fatto meglio Ok Però Nel prossimo episodio Cercheremo Wolffield In italiano Se non c'è Lo facciamo noi Ahia Dai Non è troppo difficile No no Devi solo usare tutte le API di Google In realtà puoi programmarlo Tu effettivamente Non devi andare su Google Cioè tu ogni mese Ti metti là a cercarli Eh infatti Aspetta che cerco Brandon su Google Vediamo che cosa spunta Brandon Lee Brandon Lee morte Ma l'ho scritto Brandon Lee Brandon Lee morte Devi scrivere Allora Brandon Flynn Così? No con la Y Con 2N Prova Non c'è Brandon Instagram Rebecca Glucosio Sugar Sugar Oh La scelta Rebecca esiste? No era la mia compagna delle elementari Non penso sia Se io dopo Rebecca Black Vorrei provare Rebecca White Però è molto ricarate Rebecca Rebecca Al H A L L Ferguson Come si scrive Così Per Guson Son Siamo bravi a citare eh Siamo bravi a citare Rebecca Gioielli No non penso sia quello Soreros Soteros Soteros No Elite No Rittenhouse Così? Aspetta Ok Che cognome del cazzo Che cognome del cazzo Rebecca era Oggi mi sa che tipo O la moglie o la figlia di Gordon Si chiama Rebecca No Io che cosa ne so No aspetta Poveretta E borta quattro giorni fa Era la produttrice VFX di Harry Potter Ah no No Ma no Ma no Questi unz di nuovo Poi finiamo Dai Questions Why am I afraid Spiders Ok Monsters Bees No Why am I afraid Ma non lo chiedi a Google Perché hai paura delle api È normale Perché Perché la gente chiede a Google Perché ha paura del buio Scusami Sì Perché se hai paura del buio Cioè diciamo Il buio non è una cosa Che ti fa male Quindi chiedi Perché ho sta paura Perché sono incoglionito Ah ok Della morte Di tutto No come no Next round What is the number for Come no What is the number for 911 Non è Che No io non Non me lo spreco Sarebbe troppo Bella Hospital Potrei provare For Hospital Dai Sì Lo sanno tutti a quanto pare Ambulance Ambulance Secondo me dobbiamo andare for Justin Bieber Non so che si scrive così Ordinare da asporto Come si dice Order pizza Ci troviamo Vai Non ci credo Claudio Claudio E' la tua cosa più bella C'era pizza Non me lo spreco What happens if you eat Aspetta Aspetta No If you eat Andare con A human è molto cattivo No prova No prova Ok Too much Ha senso No Troppe fibre Perché mold Mold è tipo Mucce Terriccio Too much salt Ok too much salt Silica gel Gel al silicone Perché dovreste mangiare il gel al silicone Ma queste sono le domande No non è che Ah Ho capito perché Ho capito perché Ho capito perché Perché queste sono le bustine Quelle che ti mettono Tipo nelle cuffie Nelle E che c'è scritto Non mangiare Allora tu cerchi Perché non si può mangiare Questo tizio L'ha capito Ok basta Abbiamo registrato The best way to pet Vabbè Dunque ragazzi Spero che vi faccio Vi saluto Se vi saluto So like Commentate con i video Passate in Instagram E trovate come sempre In descrizione Passate negli altri Trovate come sempre In descrizione Quali ci capi tutto Noi ci vediamo nel prossimo video Ciao